Nel nostro percorso di riflessione sui risultati d'apprendimento a tesi, ci facciamo ora accompagnare da un personaggio molto importante, che è Benjamin Samuel Bloom. Si tratta di uno psicologo e pedagogista nato negli Stati Uniti nel 1913, di cui forse avrete sentito parlare come autore della cosiddetta piramide di Bloom. La piramide di Bloom è una tassonomia degli obiettivi educativi che Benjamin Bloom e i suoi collaboratori hanno costruito a partire da un lavoro empirico molto ampio realizzato negli Stati Uniti a metà degli anni 50. Una notazione importante, abbiamo sentito qui parlare per la prima volta di obiettivi educativi, finora abbiamo parlato di risultati d'apprendimento a tesi. Si tratta di due prospettive un po' diverse rispetto allo stesso tema. Per Bloom si parla di obiettivi educativi, nel senso che per lui è molto importante quello che il docente si prefigge di raggiungere. Invece per Biggs, che è il personaggio che ci ha ispirato fino a questo momento, i risultati di apprendimento a tesi sono quelli che il docente cercherà di facilitare nei suoi studenti, sostenendoli in tutti i modi possibili, creando le attività e il contesto di apprendimento più appropriato. Quindi, da un lato il focus è sul docente come motore, dall'altro quello sul docente come facilitatore. In ogni caso, la tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom può esserci estremamente utile nell'andare a formulare i nostri risultati di apprendimento a tesi. Una cosa interessante, originariamente le tassonomie di Bloom erano più di una. Cioè, nello studio che lui ha condotto a metà degli anni Cinquanta ha analizzato tutta una serie di domini di apprendimento rispetto ai quali ha formulato tre tassonomie di obiettivi educativi, una relativa agli obiettivi educativi di tipo cognitivo, una relativa a quelli di tipo affettivo e una relativa a quelli di tipo psicomotorio. I nostri sistemi educativi, però, mettono un peso molto forte sugli obiettivi educativi di tipo cognitivo e questo ha fatto sì che, dagli anni Cinquanta ad oggi, soltanto la tassonomia relativa agli obiettivi educativi di tipo cognitivo abbia avuto effettivamente fortuna e sia stata più volte ripresa, analizzata e diffusa. Questo fiore così articolato è la prima rappresentazione della tassonomia degli obiettivi educativi che Bloom realizzò nel 1956. Come vedete, non assomiglia molto a una piramide. All'interno sono rappresentate le varie tipologie di obiettivi educativi, poi le azioni che sostanziano le prestazioni riferite ai diversi obiettivi educativi e, infine, nella zona più esterna, gli elaborati che potrebbero essere il risultato di quelle prestazioni. È molto interessante perché, pur trattandosi di un'elaborazione realizzata negli anni Cinquanta, le tipologie di elaborati proposti sono veramente molto ampie. per cui si va dal tradizionale testo scritto, la tradizionale presentazione, alla realizzazione di una trasmissione radio, di un cartone animato e così via. Le tipologie di apprendimento, vedete, sono rappresentate con una qualche forma di gerarchia, ma semplicemente secondo un andamento circolare e, addirittura, è rappresentata all'interno una spirale che ne suggerisce una successiva ciclatura. Da questo fiore, così articolato, sono state poi fatte tutta una serie di elaborazioni successive che hanno preso, di fatto, spunto, semplicemente dalla parte centrale, quella che riguarda le varie tipologie di obiettivi educativi. E sulla base di questa è stata costruita la famosa piramide di Bloom, che vedete ha alla base il primo livello di tipologie di apprendimento attesi collegati alla conoscenza. Sopra questo si costruisce un altro livello che è quello legato alla comprensione. Poi si va al livello successivo dell'applicazione, che è la base dalla quale è possibile partire per sviluppare obiettivi di apprendimento legati all'analisi, alla sintesi e, infine, al livello più alto della valutazione. La piramide di Bloom non resta, però, uno strumento statico a lungo. Nel 2001, infatti, ne viene pubblicata una revisione, sviluppata da Henderson e Crathwell, che introduce delle differenze concettualmente molto rilevanti. Bene, provate a confrontare le due piramidi e vedere quali sono le differenze. Provo a lasciarvi qualche secondo per fare questa riflessione. Bene, siete riusciti a trovare le differenze? Immagino di sì. Proviamo a cercarle insieme. Nella versione originaria della piramide, le varie tipologie di apprendimento erano descritte con dei sostantivi. In quella nuova, invece, troviamo dei verbi. Non si tratta di una differenza banale, perché l'utilizzo del verbo, ricordate quando parlavamo di come si formula bene il risultato di apprendimento atteso, ci spinge nella prospettiva della prestazione dello studente. Noi ci aspettiamo che lo studente sia in grado di analizzare, sia in grado di applicare, e così via. Quindi, prima fondamentale differenza si passa da nomi a verbi, azioni attese da parte dello studente. La seconda differenza è che conoscenza viene sostituita con ricordare, non con conoscere. Immagino che l'abbiate notato. Questa è una cosa particolare, perché nella visione di Kratwell e Anderson la conoscenza, quindi eventualmente il verbo conoscere, avrebbe avuto un significato troppo ampio in termini di prestazioni e potenzialmente avrebbe potuto comprendere tutte le varie tipologie di apprendimento successivamente descritte. Di conseguenza, hanno recuperato quello che era il significato originario proposto da Bloom, che nelle descrizioni con cui aveva accompagnato la sua tassonomia, descriveva questa tipologia di apprendimento atteso in termini di capacità di rievocare concetti, contenuti, fatti e così via, e quindi l'hanno tradotto in termini di ricordare. Quindi, in questa nuova versione della piramide, ci troviamo alla base del processo di organizzazione degli obiettivi educativi, il concetto di ricordare. Abbiamo ancora un'altra differenza importante tra le due piramide. Andiamo a vedere la terza differenza. Allora, vedete che sulla cima delle due piramidi troviamo due cose un po' diverse. In quella precedente troviamo valutazione, nell'altra troviamo creare. Nella sensibilità di Kratwell e Anderson, che non a caso hanno lavorato principalmente all'inizio degli anni 2000 su questa nuova piramide, il tema degli obiettivi di apprendimento legati alle abilità creative e ideative prende una rilevanza completamente diversa rispetto a quello che avveniva nel mondo in cui lavorava Bloom negli anni 50. Quindi abbiamo una nuova piramide che può costituire per noi un punto di riferimento estremamente interessante per la creazione dei risultati di apprendimento attesi, che ci orienta verso le azioni e ci parla di ricordare, capire, applicare, analizzare, valutare e creare. È il momento ora di provare a sintetizzare. Il messaggio fondamentale è che la tassonomia di Bloom, rivista nel 2001 da Kratwell e da Anderson, ci aiuta nell'ideazione di risultati di apprendimento attesi che possano spaziare in tante direzioni diverse, da ricordare, al capire, all'applicare, all'analizzare, al valutare, al creare. Ricordiamoci sempre queste dimensioni più alte, definite da queste piramidi, che spesso vengono un pochino trascurate nella formulazione dei risultati di apprendimento attesi, che però possono costituire un patrimonio molto importante di competenze per gli studenti del nuovo millennio. Grazie. 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 Grazie.